Il gruppo comunale di protezione civile di Berceto in collaborazione con il comitato provinciale di Parma sta organizzando nella piazza del comune di Berceto la giornata informativa di Alert System e stiamo utilizzando questo mezzo attrezzato che è stato acquistato grazie alla generosità dei lavoratori, dell'Unione Industriale e dei sindacati che hanno dato un contributo molto importante per realizzare questo progetto. Si tratta di un sistema di comunicazione telefonica che permette di raggiungere in tempo reale tutti i cittadini per dare informazioni su calamità naturali, sull'emergenza ma anche informazioni quotidiane di pubblica utilità in caso di interruzione di strade, di chiusura delle scuole, incendi, qualsiasi cosa insomma. A Berceto come hanno reagito? La gente aderisce? La gente aderisce e naturalmente si deve abituare ai messaggi che arrivano e il nostro compito è proprio quello di informare la gente che quando arriverà un messaggio registrato di solito con la voce del sindaco deve ascoltarlo perché può essere utile per ricevere indicazioni su come comportarsi in caso di calamità o comunque solo per avere delle informazioni utili. Ecco, e quante persone finora hanno aderito all'Air System nel comune di Berceto? Ma ormai abbiamo quasi più di mille iscrizioni e oggi ne stiamo raccogliendo delle altre e speriamo di continuare così fino al termine della giornata. La gente è contenta di questo servizio? Lo apprezza? La gente informata sul funzionamento di All Air System inizia a capire l'importanza e quindi ad apprezzare questo servizio. Magari all'inizio non capiva bene cosa voleva indicare, cosa voleva dire e quindi era un po' scettica. Invece piano piano si sta abituando e mi sembra che sia sempre più contenta di questo servizio.